Cos'è significato organizzare, comunque stare giorno per giorno sulla organizzazione di questa festa per tutto il mese? Perché in realtà, bisogna dirlo, i preparativi sono cominciati molto prima di questi due o tre giorni finali. Allora, diciamo che in realtà il lavoro del comitato, ma della parrocchia tutta, gravita per tutto l'anno attorno a questi giorni. Certamente questo mese è stato molto intenso, sia da un punto di vista emotivo, perché comunque non del comitato, ma un po' appunto tutto il paese vive la festa intensamente. Quindi diciamo, negli ultimi giorni c'è un certo sentire, un certo fervore, perché il tutto è così, svolga nel migliore dei modi. E poi certamente sono anche stati i giorni che, a rispetto di quelle che possono essere le vacanze per i ragazzi, piuttosto che le ferie per gli adulti, e in realtà sono stati occupati per la gran parte del tempo proprio per i preparativi, quindi per affinare tutte le ultime cose che servivano per questi giorni, per metterci d'accordo con l'amministrazione comunale, col servizio d'ordine. Però sicuramente come ogni anno è stato un piacere vivere questi giorni con Maria, la nostra patrona, e speriamo che lei ci dia ancora la forza per continuare ancora per tanti anni, perché oltre ad essere un momento religioso, molto bello da un punto di vista ecco cristiano, è anche un momento di abnegazione, di spirito di comunità, che per le piccole realtà come quelle di Cannizzaro possono fare soltanto del bene.